Presentato a Teramo il convegno organizzato dal Cotuge la montagna che guarda al futuro e alla banda larga si terrà il prossimo 9 dicembre a Civitella. Sì, una boccata d'ossigeno per la montagna e per tutto il territorio montano. Una richiesta di finanziamento per effettuare la revisione generale e quindi salvare gli impianti di risalita di San Giacomo che sono proprio un territorio di confine e proprio in questi giorni in cui si parla tanto di microregione e di Marche Abruzzo in cui ci sono stati diversi incontri tra le varie giunte regionali per pubblicizzare proprio questo trade union, questa sinergia tra le due regioni noi siamo con la cintura nella parte alta del territorio e della montagna. Questo contributo servirà per salvare e dare altri 5 anni di speranza e di futuro agli impianti di risalita e non far perdere ancora quelle occasioni e quell'opportunità che possono sollevare un po' l'economia di tutto il territorio montano. Poi si parlerà anche dello stanziamento per la frana di Ripe di Civitella e anche per la banda larga. Sì, gli argomenti sono altri due. Uno importantissimo che ha colpito Ripe di Civitella con una frana che ha anche rovinato la strada di collegamento tra l'impianto di risalita, quindi San Giacomo, la montagna a Teramo e l'altro la banda larga che servirà per eliminare proprio il digital divide dei territori montani che già sopperiscono molto la mancanza di servizi e fino a qualche anno fa non avevano neanche la DSL. Saranno presenti ovviamente anche gli amministratori dell'Ascolano, a cominciare dal sindaco di Ascoli, ma anche la vicepresidente della regione Marche, Anna Casini. Sì, ci sarà anche il sindaco di Ascoli, ci sarà anche la vicepresidente Anna Casini, esponenti del territorio marchigiano che parleranno proprio di questa forza, di questa collaborazione tra le due regioni per eliminare quelli che sono i confini geografici e territoriali.